Rafa Marin è nuovo giocatore dell'SSC Napoli il Napoli piazza il primo acquisto sul mercato anzi il secondo perché il primo vero acquisto è stato Antonio Conte ma il primo giocatore comprato dall'SSC Napoli appunto è Rafa Marin che ne parlerò nel corso del video chi è e le cifre del contratto a quanto è stato acquistato ma voi vedete il video fino alla fine mi raccomando quindi siamo di nuovo qui ragazzi bentornati in questo nuovo video qui è già per oggi siamo in un video di calcio mercato parleremo di calcio mercato Napoli in particolare del neo acquisto appunto Rafa Marin prima di tutto ciò mi raccomando un mi piace per supportare questo video questo video lo sto registrando sono le 2.35 di notte quindi apprezzate lo sforzo mi raccomando tanti mi piace un commento di tema la vostra che ne pensate sul calciatore voi lo starete guardando di mattina presto sicuramente e vi aspetto sicuramente stasera non vi perdete la live reaction dell'Italia Spagna Italia non vi perdete la live reaction e il post partita e se riesco piazzo un altro video di calcio mercato questo pomeriggio altrimenti domani altrimenti domani quindi rimanete sintonizzati sul canale quindi iscrivetevi mi raccomando per chi è nuovo e attivate la campana per rimanere aggiornata tutta quanta settimana se voi attivate la campanella non vi perdete i contenuti perché YouTube vi manda la feed però se non ce l'avete attiva attivatela mi raccomando ricordatevelo è importante e se vi va seguitemi sui social Instagram piattaforma viola tutti quanti i social trovate sotto in descrizione mi raccomando seguitemi dappertutto tanto mi chiamo sempre Japioz e rimanete sintonizzati mi raccomando voglio sapere la vostra sotto in un commento poi vi dirò anche che voto do a questo colpo del Napoli iniziamo subito con il video buona visione vamos e allora partiamo dicendo che io cercherò di abbassare il tono della voce perché sono le due e mezza di notte e allora innanzitutto Rafa Marin quindi è il secondo acquisto ufficiale appunto del Napoli dopo l'arrivo quindi il secondo colpo del Neo DS del Napoli Manna piazza al secondo colpo dopo Antonio Conte arriva il primo giocatore appunto Rafa Marin vi dico in particolare chi è il giocatore quello che ha fatto nella sua carriera e poi vi dico un po' alcune statistiche e poi parleremo delle cifre dell'affare quindi vedete il video fino alla fine mi raccomando per sapere tutto l'affare cosa comprende allora innanzitutto Rafa Marin è un giocatore che attualmente sta sotto contratto con Real Madrid è un giovanissimo molto molto giovane calcolate ragazzi è un 2002 ha 22 anni quindi ancora molto giovane sotto contratto con i Blancos con Real Madrid fino al 2026 che negli anni ha girato Real Madrid lo acquista da giovanissimo ha girato tanti anni in prestito quest'anno ha fatto una grandissima stagione con la La Vesse che è arrivata decima in classifica in Liga ha fatto un campionato pazzesco lui è stato uno dei protagonisti ha giocato praticamente sempre poi ne parlerò della sua stagione che ha fatto quest'anno diciamo in generale e ha collezionato tante presenze e sicuramente ha dimostrato tanta affidabilità e quindi diciamo il Napoli si è interessato appunto visto che comunque al Real Madrid non troverebbe molto spazio quindi lo girerebbe di nuovo in prestito innanzitutto Rafa Marin è un calciatore spagnolo appunto ha 22 anni è nato a Carmona in Andalusia nel 19 maggio del 2002 e diciamo che lui è molto molto giovane perché diciamo che lui è un difensore centrale ma può all'occorrenza adattarsi anche come terzino di sinistro in carriera ha giocato anche come terzino di sinistro ma lui di ruolo è un difensore centrale quest'anno con la Lavessa ha giocato sia difensore centrale centro-destra che centro-sinistra lui preferisce lui ovviamente è Mancino quindi giocherà più sul lato Mancino e ha caratteristiche diciamo che può giocare anche terzino però non è un terzino di o non è un giocatore offensivo quindi se all'occorrenza giocherà come terzino basso quindi che è bloccato prevalentemente per la copertura però il Napoli l'ha acquistato per fare il difensore centrale punto debole della difesa del Napoli quest'anno la difesa è un giocatore, un difensore dalla presenza fisica il suo punto di forza appunto è il fatto che lui è alto 1,91m quest'anno appunto ha totalizzato 33 presenze con la Lavessa in campionato mentre altre due presenze l'ha fatta in Coppa del Rei per un totale di 35 presenze tra campionato e Coppa del Rei e si è messo in luce quest'anno la Lavessa nonostante la sua giovane età è stato protagonista diciamo la sua carriera si è ammosso i primi passi nel settore giovanile del Siviglia per poi essere acquistato appunto tesserato da Real Madrid nel 2016 nell'ontano 2016 in cui però ovviamente ovviamente il Blancos l'hanno girato nel vivaglio dei Meringues quindi nel Real Madrid B quello il Castiglia quindi in cui appunto ha militato tra il 2020 e il 2023 ha collezionato 69 presenze con Real Madrid B dal 2020 al 2023 ha totalizzato praticamente in tre anni dal 2020 al 2023 69 presenze e 4 gol quindi un buon bottino diciamo e però la scorsa annata è stato appunto ceduto in prestito alla Lavessa per la prima volta quindi in Liga e si è dimostrato con la maglia dei Baschi praticamente che si sono classificati al decimo posto ha riservato ben come ho detto 35 presenze tra Coppa del Rei e campionato e ha totalizzato un totale di 2546 minuti giocati in nazionale però non è che ha giocato tanto perché ha giocato solamente con la Spagna appunto under 17 e under 18 quindi con i giovanili con le giovanili e diciamo che al Napoli si adatterebbe perfettamente nel modulo nella difesa 3 di Antonio Conte come braccetto di sinistra secondo me il ruolo perfetto soprattutto perché Conte gioca con i difensori con i piedi che stanno impostati quindi lui giocherà centro-sinistra e poi ovviamente c'è credo Rachmani che giocherà o centro-destra o difensore centrale Napoli dovrà acquistare anche un altro difensore secondo me si parla di buongiorno in casa Napoli quindi può darsi anche che potrebbe essere la nuova difesa del Napoli appunto Marin, Buongiorno e Rachmani però ancora non è niente di ufficiale per quanto riguarda Buongiorno e quindi secondo me è un colpo perfetto per il Napoli che si adatterebbe perfettamente con le caratteristiche che chiede Antonio Conte è alto, sa impostare, ha i piedi buoni è forte fisicamente abile sui colpi di testa quest'anno purtroppo non ha attualizzato Dreti ha preso se non sbaglio 6 ammunizioni però comunque è stato uno dei protagonisti della grande stagione all'Avest ragazzi è una squadra che fa sempre lotta fra la Liga 1 e la Liga 2 quindi è una squadra che fa sempre su e giù nella serie B spagnola quindi quest'anno a sorpresa di tutti l'Alavest non è che si è salvata è arrivata decima quindi ha fatto un capolavoro una stagione pazzesca diciamo che lui essendo molto giovane per esempio il transfer market lo valuta 7 milioni e mezzo il Napoli però lo acquisterà appunto verserà anche perché verserà Aurelio De Laurentiis verserà circa 10 milioni di euro nelle casse di Florentino Perez quindi che però si parla tra i 10, 11, 12 qui riportano 10 poi ho letto altri articoli che dicono 11 o 12 ma alla fine comunque il prezzo fra i 10 e i 12 milioni di euro credo magari forse con i bonus arriva a 12 non lo so comunque però i Blancos si sono garantiti il diritto di ricompra del difensore che vuol dire che è stato comprato a 10 milioni di euro ma per due anni è stato comunque fatto il contratto fino al 30 giugno 2029 e percepirà quindi per un quinquennale 5 anni 30 giugno fino al 2029 per il classe 2002 e percepirà circa 1.2 milioni di euro a stagione circa però il Real Madrid ha la possibilità il diritto di ricompra ma non prima dell'estate del 2026 quindi per due anni non si potrà muovere dal Napoli il Real Madrid non può riacquistarlo quindi fino al 2026 non potrà riacquistarlo il Real Madrid ma dal 2026 scatta la clausola che se il Real Madrid vuole ricomprarlo deve versare al Napoli sulle casse di Napoli 25 milioni mentre se lo vuole riacquistare nel 2027 la cifra salirebbe addirittura a 35 milioni quindi cifre pazzesche e il Napoli versando solamente 10 milioni ragazzi si è assicurato un buon difensore con una ricompra comunque alta quindi in qualsiasi caso il Napoli ci andrebbe a fare plus valenza perché comunque è anche molto giovane 10 milioni per un giovane che si è affermato una grande stagione secondo me sono ottimi i prezzi vedendo i prezzi che girano in Europa per i difensori che ragazzi fidatevi trovare un difensore buono al giorno d'oggi non è facile soprattutto un 2002 quindi è praticamente un 22enne secondo me è un colpaccio questo che fa il Napoli perché prende un giocatore che comunque ha fatto una buona stagione giovanissimo lo paga potenzialmente poco via dal settore giovanile del Real Madrid quindi dalla cantera no diciamo non dalla cantera del Real Madrid dalla cantera del Siviglia però comunque come voto a questa operazione di calcio mercato do un bel 7,5 non di più perché ovviamente per dare di più voglio vederlo in Serie A comunque 7,5 secondo me è un buon voto fatemi sapere la vostra qua sotto che voto date a quest'operazione del Napoli io 7,5 fatemi sapere la vostra quindi i partenopei acquistano Rafa Martinez voglio sapere la vostra lasciate un mi piace iscrivetevi è già per tutto bella vamos iscrivetevi ciao